Io sono Sam e oggi farò l'unboxing dello scanner portatile Xenon Ultra 1962 Acce Cordless Bluetooth. Ho il mio taglierino quindi mi butto subito. Appena estratto dalla scatola ho alcune informazioni sul prodotto. Un cavo USB-C da collegare al nostro scanner. Il nostro scanner! Lo Xenon Ultra 1962 Acce incorpora la nuova generazione di scansioni di Honeywell consentendo che la cura del paziente rimanga una priorità assoluta per i medici contribuendo a migliorare la fidelizzazione dei dipendenti e riducendo il costo totale di proprietà per gli ospedali. Tutti i modelli per il settore sanitario sono dotati di alloggiamenti antimicrobici e predisposti per la disinfezione e possono essere puliti regolarmente con un'ampia gamma di prodotti.